Ciao a tutti da Roberto di Smartphoneology, oggi parliamo di libri, torniamo a parlare dei libri e lo facciamo con i segreti del copywriting di Jim Edwards. Jim Edwards è uno dei primi ad essere riusciti a vendere un ebook online, è un copywriter da moltissimo tempo che ha generato tante vendite per tante migliaia se non milioni di dollari, è uno dei più esperti nel suo campo e con questo libro cerca di aiutare i meno esperti nel copywriting ad aumentare i profitti, i click e le vendite. Vi dico subito che con questo manuale non saprete generare milioni di euro di vendita ma si potrà imparare una serie di strategie molto importanti e molto utili per affinare le proprie tecniche di vendita per qualsiasi utilizzo, che sia una landing page, che sia un ebook, che sia un manuale, che sia un video, un post, un blog, sono molte le tecniche che consiglia e suggerisce e spiega Jim Edwards attraverso questo volume e che mette in mostra proprio nella lettura, dunque si vedranno spesso dei testi, dei titoli su cui punta molto per tutto il volume, inoltre farà molto l'utilizzo di elenchi puntati, una strategia che ritiene tra le più fondamentali per riuscire a vendere su internet o comunque offline o comunque affinare appunto le proprie tecniche di vendita, inoltre punta molto su una serie di accortezze da tenere a mente quando si cerca di vendere qualcosa che sia online o che sia offline, ad esempio bisognerà tenere conto che ci si rivolgerà un utente alla volta e quindi non è efficace tanto scrivere a tante persone ma immaginarsi una persona tipo, la persona tipo a cui vendere il prodotto e a cui rivolgersi idealmente quando si compila un test di vendita inoltre suggerisce la creazione di uno swipe file, ovvero una specie di archivio dove si possono salvare i titoli che hanno accatturato la propria attenzione che siano titoli di un post, titoli di un giornale, titoli di un altro prodotto venduto da un altro competitor insomma una serie di strategie, accortezze per poter riuscire ad essere più efficaci nella vendita e nella presentazione di un prodotto da Apogeo che costa 19,90€ e che all'interno propone altri prodotti da acquistare o comunque da utilizzare a supporto della propria strategia di vendita come Panelscript ma anche il sito proprio del libro, cioè un sito dove è possibile andare a trovare tutti gli strumenti suggeriti nel volume per poterli mettere alla prova e poter dunque continuare a proseguire nella propria strategia di vendita è un libro che ho apprezzato perché mi ha aiutato ad affinare alcune strategie del mio network principalmente per Smart Phonology alcune delle pagine sono state realizzate con il supporto di questo manuale che dunque è risultato anche molto utile non solo ai fini diciamo della recensione anche se non è una recensione ma anche per poter aumentare le competenze quando si va a scrivere un testo oppure una stessa recensione o un articolo di un blog e così via è un libro che consiglio ad acquistare a chi cerca di poter aumentare i propri profitti o i propri click non per forza utilizzando tecniche di click biting o meglio le suggerisce ma in termini molto dulcorati dunque accettabili e inoltre offre delle strategie che possono catturare l'attenzione mettendo al centro però sempre l'utente che andrà a leggerlo e dunque ad acquistare un determinato prodotto dunque consiglio di acquistarlo sì il prezzo non è dei più abbordabili come già detto costa poco meno di 20 euro ma è un piccolo investimento non è detto che possa ritornare all'investimento mettendo a frutto quanto ho imparato nella lettura dei segreti del copywriting vi anticipo già quale sarà la prossima recensione ma parliamo di un libro molto divertente ed è Non siamo mai stati sulla terra scritti da Rocco Tanica Rocco Tanica lo conoscerà benissimo chi ascolta Elio e le storie tese è un comico musicista e a questo punto anche scrittore che ha utilizzato un'intelligenza artificiale di OpenAI per scrivere appunto questo libro un dialogo surreale divertente a tratti poco comprensibile ma che vale la pena dargli una lettura per il video di oggi è tutto vi ringrazio per essere stati con me se vi è piaciuto questo video potete lasciare un like iscrivervi al canale e attivare la campanella oppure lasciare un commento per dirmi cosa ne pensate del volume di cui abbiamo parto oggi se l'avete già letto o se avete intenzione di leggerlo o cosa ne pensate in generale se volete suggerire anche la prossima lettura potete comodamente utilizzare il box dei commenti e vi ringrazio ancora alla prossima ciao da Roberto di Smorfologi